Vi sento un po' più calorosi, facciamo un applauso un po' più caloroso. Saranno inoltre presenti questa sera alcune delle finaliste di Miss Città Murata 2016 che si sono già aggiudicati e lascia passare per la finale del 6 agosto in Biazza Giurgione. Entriamo nel vivo della competizione perché ora le nostre Miss sfileranno con il proprio abito da sera, l'abito che loro stesse hanno scelto, che più le valoriscono ed esprime al meglio la loro personalità. E allora io direi di liberare il tappeto rosso perché le nostre Miss sfileranno nel tappeto. Allora io direi iniziale a conoscerle smartendo da PIS numero uno. Ciao! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.